Si interrompe la scia positiva di vittorie casalinghe dell'Olimpia agnonese che viene battuta dalla Iesina per 1-0 in un match dove è successo praticamente di tutto. Ma andiamo per ordine. Primo squillo lo registriamo all'undicesimo ed è di marca Granata, con Ibe, che di testa costringe Tavoni a tuffarsi. Un minuto dopo gli avversari tentano la risposta con un tiro insidioso di Francia, che Biasella respinge di pugni. Al diciottesimo è ancora la Iesina all'attacco con Traini, che si gira in aria, ma va di poco a lato. Stessa sorte tocca il tentativo di Dilullo dalla distanza, sgancia un tiro potente che non inquadra lo specchio per pochissimo. Al ventisettesimo Lagnone si illude del vantaggio, c'è Mischia in aria e ricamato su una respinta di Frulla, infila il gol dell'1-0, prontamente annullato per una posizione regolare proprio del numero 8 Granata. Al trentasettesimo è Biasella che compie un vero miracolo, con un tiro insidiosissimo di Traini, al quale il numero 1 di casa nega la gioia del gol, ma non senza difficoltà. La partita sembra andare avanti in maniera equilibrata fino al quarantesimo, quando Ibe viene ammonito per un fallo e protesta una volta di troppo con il direttore di gara, Canfora, della sezione di Castellammare di Stabbia, che prontamente tira fuori il cartellino rosso e lo manda anzitempo sotto la doccia. Al quarantunesimo tocca a Cantoro abbandonare il campo per un brutto intervento su Tombari, per lui rosso diretto, senza se e senza ma. La tensione alle stelle si va negli spogliatoi con Lagnone che deve ridisegnare l'assetto in campo. Con le immagini di Danilo Scarinci siamo alla ripresa, il nervosismo continua, tant'è che viene mandato via anche Donatelli dalla panchina. Ovviamente Lagnone fa l'unica cosa che può fare, senza i suoi due attaccanti, si chiude in difesa. La Iesina, da parte sua, fatica ad approfittare dell'inferiorità numerica degli avversari, ma ci prova. Al diciassettesimo con Piero Andrei è un tiro insidioso che Vescio riesce ad intercettare. Al ventisettesimo con Mattia Cardinali, che tenta il colpaccio dalla sinistra, mandando di poco al lato. Al trentunesimo con Nicola Cardinali, che su calcio d'angolo non inquadra lo specchio della porta. Ma al quarantaquattresimo ci riesce. Guadagna un calcio di punizione da una posizione favorevolissima la Iesini. E Traini firma il gol della vittoria. Una vittoria per nulla scontata, perché Lagnone ce l'ha messa davvero tutta per guadagnarsi un pareggio, che in questo caso sarebbe stato un vero lusso. Si chiude dunque un match che si preannunciava già difficile contro una squadra attrezzata, ma non fino a questo punto. E sicuramente con tante recriminazioni da fare all'indirizzo della terna arbitrale, giudicata da pubblico, giocatori e dirigenza, assolutamente non all'altezza.